Dario Franceschini pensa al Quirinale Sì, sì, io ipotesi non fingo La notizia l'ho letta e tale notizia ve la metto come l'ingner nel riassunto di questo video Sì, sì, il potentissimo Dario Franceschini, ministro della cultura pensa al Quirinale Sì, perché presto si dovrà eleggere il nuovo presidente della Repubblica E Dario Franceschini pensa di poterci andare lui al Quirinale Io di ciò non mi meraviglio perché tanto tempo fa, quando Marco Pannella ancora era in vita Nel corso di una trasmissione televisiva, cioè pubblicamente Marco Pannella disse a Dario Franceschini Tu hai la faccia come il Q Tu, Dario Franceschini, hai la faccia come il Q Tu hai la faccia come il Q Ma guardate che la notizia sta sul web, sapete La potete trovare pure voi Io a quella trasmissione televisiva E assistetti di persona E io vidi in tv proprio Marco Pannella Di dire a Dario Franceschini Tu hai la faccia come il Q Tu hai la faccia come il Q Allora, siccome Marco Pannella è Marco Pannella E avendo detto a Dario Franceschini Tu Dario Franceschini hai la faccia come il Q Io posso ritenere che avendo Dario Franceschini la faccia come il Q Egli Dario Franceschini possa davvero aspirare ad andare al Quirinale Cioè a diventare presidente della Repubblica Tra l'altro Dario Franceschini ha una brava figliola Che si chiama Caterina Una brava e bella figliola Che lavora dentro la potentissima casa editrice La nave di Teseo E di cui è proprietaria E di cui è direttrice Elisabetta Scarbi Elisabetta Scarbi Si è la sorella di Vittorio Scarbi Quindi c'è tutta un'organizzazione C'è tutto un legame Tra il Ministero della Cultura E la casa editrice La nave di Teseo Che rafforza la cultura italiana La rafforza la cultura italiana Capito? Dario Franceschini Il Ministero della Cultura Pensa di venire a letto il Quirinale Inoltre una figlia di Dario Franceschini La bella e brava Caterina Franceschini Lavora dentro la potentissima casa editrice La nave di Teseo Che è diretta Elisabetta Scarbi Sorella di Vittorio Scarbi Quindi come vedete C'è tutta un'organizzazione Che fa pensare Che davvero Dario Franceschini Possa andare al Quirinale Cioè Possa diventare il prossimo Presidente della Repubblica Soprattutto Ricordando ciò che Marco Pannella Gli disse a Dario Franceschini Pubblicamente in televisione Tu Dario Franceschini Hai la faccia come il Q Tu Dario Franceschini Hai la faccia come il Q Tu Dario Franceschini Hai la faccia come il Q E staremo a vedere come stanno le cose Intanto le cose stanno così Che io sono Serafino Massoni Oggi come oggi Sono uno dei più potenti opinionisti del web Perché opero sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion e Youtube E su Youtube Io ho quasi 11 milioni di visualizzazioni Questa è la mia ultima opera E qua concludo Ricordando ciò che Marco Pannella Ebbe a dire pubblicamente in televisione A Dario Franceschini Tu Dario Franceschini Hai la faccia come il Q Tu Dario Franceschini Hai la faccia come il Q Tu Dario Franceschini Hai la faccia come il Q Ok 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 Ok